Andrea Cardone può sorridere, la sua Lazio va che è una meraviglia. Dopo aver liquidato Empoli e L'Aquila, i Bianco Celesti riservano lo stesso trattamento ai patroni di casa del Racing, volando ad appena un passo dalle semifinali. Ci mettono ben poco i Bianco Celesti ad entrare in partita. Appena due giri di lancette, poi Adilardi scalda il destro facendo tremare la traversa. E' l'antipasto a quel che succede appena tre minuti più tardi. Il solito Serafini approfitta dell'errore in apertura di Mollo e vola verso l'area, dove è letale e fortunato nel capitalizzare il rimpallo del suo tiro sulle schiene dello stesso Mollo e di Corcea, mettendo dentro un gol che lo designa sempre più bomber. La Lazio è avanti ma non rallenta e anzi al quarto d'ora Marinacci potrebbe colpire ancora ma trova i piedi di Raponi a dirgli di no. Il numero uno di Rivetta può invece molto poco al diciannovesimo quando Santilli pennella sul secondo palo, un cross perfetto per la testa di Serafini che ringrazia, segna e fa 2-0. Il racing è tutto nel tentativo che al ventitresimo Pennacchia spedisce sopra la traversa, mentre nel finale la Lazio potrebbe scappare ancora ma Marinacci pecca di egoismo e vede il suo diagonale uscire di un soffio invece di servire Serafini. Nella ripresa i cambi rallentano un match che la Lazio tiene saldamente in pugno e chiude al diciassettesimo quando Ancillai si inventa il gol che vale il Trisse con un destro a giro decisamente bello. È il punto esclamativo per una Lazio sempre più padrona del suo girone e soprattutto ad un passo dalle semifinali del Memorial Varani.